Chi è pronto a farsi fare una foto con Babbo Natale? Baby Boss? Ron? Che sta succedendo? Io e il tuo fratello lavoravamo insieme. Un impiegato della Baby Corp. Diteci! Nessuno mi vedrà mai sorridere accanto a un comune. Ti piace ricevere posta? Ecco una consegna speciale per te. Baby Boss? Che tintierbolina ci fai? Tu qui. La domanda è come tintierbolina faccio a uscirne. Imparerai una cosetta o due sullo spirito natalizio. Questo è il Natale del futuro. Niente rimborsi. Ma è così che abbiamo sempre fatto le cose? Non più. Boh! Efficienza! Apriamo il Natale! Apriamo il Natale! È come apriamo le danze, ma... Era chiaro. È solo che non ci piace. Apriamo il Natale! degli asidenti. Ehi... Bene! Ehi! Ehi! Grazie a tutti.